in alto adige ne abbiamo già fatte di cotte e di crude voli in mongolfiera pericolose scalate balli ad alto rischio di schiaffo e ora dovremmo compiere la nostra missione finale assaggiare il goulash ce la faremo o saremo distratti da altro wow ecco arrivati allo stadio ti piace molto molto bello quante persone ci sono in campo più di 20 sai che dopo 50 secondi di hockey su ghiaccio è un sport talmente intenso che si sono stancati e devono andare a cambiare giocano 50 secondi e poi si riposano e quanti cambi sono possibili illimitati illimitati si gioca per 60 minuti dopo 50 secondi un giocatore talmente stanco che chiama il suo sostituto e si va avanti così è uno sport pericoloso immaginato uno sport pericoloso e ci si può far veramente male esatto così la pensano molti soprattutto quelli che non giocano e che non conoscono molto bene lo sport però penso che al calcio e al tennis ci sono più infortuni che magari anche uno sport come locale su ghiaccio Che stanno facendo? Si riposano adesso Così? Tra un esercizio all'altro bisogna riposarsi Fanno stretching? Fanno stretching Quante calorie si bruciano? Non ho idea Adesso potresti anche immaginarti di essere una partita Perché qua siamo seduti sulla panchina degli avversari Mi faccio finta di essere in partita Esatto Chiudi gli occhi dai Ok Michele ha riaperto gli occhi cos'è che facciamo? Eh cosa vuoi fare? Mi vuoi presentare dei giocatori Ah ecco Giulio Scandella che ci aspetta E' un giocatore della nazionale italiana Ecco Ok Un fortissimo attaccante Ciao Giulio Ciao Michela Ciao dove sei? Di Montreal Ah Ma sei Italo-Canadese? Si Italo-Canadese Vieni a tirare un po' con noi? Ti piacerebbe? Io non so andare sul ghiaccio Si vedi ti faccio Vedi Non è che mi faccio male? Perché mio marito potrebbe anche ringraziare Si si ma adesso mettiamo anche il casco così non ti fai male in casa Al limite mi spacco un bravo con una gamba ma la testa non è in tappa Ok Il casco Michela Lo fisso io il casco? Si bravo fissalo Mi sembra di essere un po' Hannibal Lecture Aia Si parte? Ho un mal di destra Come si tiene? Sopra così Così? Si si Ok Qua? Si 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 Malo eh Vai che ce la fai Vai che ce la fai Viva 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 Anna, Anna Meyer Echt? Yvonne Jones?